Mentre i governi europei si dividono sulla questione migranti, nuovi dati dell'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo mostrano che le domande di protezione internazionale nell'ultimo anno sono calate del 44%. Il rapporto pubblicato lunedì mette in evidenza una diminuzione della pressione sulle frontiere esterne dell'Unione Europea. I richiedi anti-asilo provengono principalmente da zone di guerra come Siria, Iraq e Afghanistan. Le domande risultano in calo anche nei primi mesi del 2018, sebbene i livelli continuino ad essere superiori a quelli pre-crisi. La Germania si conferma come il paese europeo che riceve il più alto numero di richieste d'asilo, ma anche in questo caso il numero delle domande di protezione internazionale è diminuito del 70%. A seguire c'è l'Italia con più di 128.000 richieste in corso e la Francia con quasi 100.000. Sono ancora migliaia i minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, ma nel 2017 il loro numero si è ridotto della metà attestandosi a circa 32.700 persone. Più di tre quarti di loro ha presentato domanda in Italia, Germania, Grecia, Regno Unito e Svezia.